Lanciare i propri cuori oltre le certezze, per guadagnare ciò che il cuore desidera. Rivela presenta Mostre itineranti 2014 Cor Magis, gli affreschi del buon governo di Ambrogio Lorenzetti a Siena. La gloria di colui che tutto muove. La felicità nel paradiso di Dante. Tanzica 1980, Solidarnuscia. Da maggio a dicembre, nelle province di Verona, Brescia e Treviso. Rivela.org Rivela.org